bella ragazzo a tutti dal naguzzi iniziamo questa avventura in the order un gioco che assolutamente dal mio punto di vista va provato va giocato mi sono un po' gnappo con questi giochi perché non sono i giochi diciamo che io prediligo giochi sportivi però ci buttiamo in questa avventura e vediamo come va vediamo un attimino le impostazioni gioco difficoltà facile media facciamo media assistita sia i sottotitoli sì perché tutti in inglese probabilmente comandi l2 visione oscura r2 spara l2 mira modalità foco alternativa interagisci corpo a corpo copertura ricarica col quadrato ricarichi scuse con x supera che non so cosa voglio dire muoviti il visuale direttiva va bene video gamma lascio così audio ok ragazzi andiamoci a buttare di testa in questa avventura no no e no Ancora un po' e ci restava secco, non è vero? Vuoi fare un altro giro? Figli di una grandissima bip Oh, è che cominciavo a scapparmi Tranquillo Torniamo dopo a dargli un'altra ripassata Va bene? Dai, forza Tirati su Tirati su Andiamo, dai Sogni d'oro, bello L'ora del bagno mattutino Di questo passo non credo che resisterà molto a lui Ancora qualche passo E si ricomincia Eh, ma stavolta vi rompe il culo, mi sa Eh, che cazzo Sei pronto? Questa cosa serve te Rimettilo dentro Passa con il barato Attenzione Attenzione, mi ribello Eh, ti faccio lo stesso gioco? Però io t'accopo Servano le chiavi Servano le chiavi Servano le chiavi Voi, dalle Voi, dalle diamo un'occhiata in giro in questi giochi se posso guardo e osservo sempre tutto da allora non posso rubare un cazzo dai cadaveri devo andare di qua non prima vita perchè ho scelto di andare di qua no infatti quella sboglia attenzione c'è una cella aperta no infatti La solita fortuna. Dobbiamo trovare dei proiettili, presumo, ma questi qua sopra, valigetta, non mi fa andare, che grafica ragazzi, qui c'è qualcuno, ma non posso interagire. Se vado verso quadro neanche, mi dice di andare di qua. Va bene. Eh, chi va là, dal di là. Va bene. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Figa, si è messo male, amico. Cos'è, cosa sono queste urla di animale incazzato? Attenzione. Non è vero, scarica. Va bene, amico. Non fiatare. Dentro. E chiudi. Perché non ne parliamo, eh? Sei tu, non è vero? quel prigioniero di cui tutti parlano. C'è solo un modo per uscire da qui. Morti, e tu lo sei già. Ti pentirai di aver lasciato le catacombe. Sparati la bocca. Va bene. D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. Muoviti. È armato! È armato! Abbiamo l'ordine di aprire il vuoto! Fermati! Merda. Usa R per valutare velocemente la situazione e premere G per agire. Cazzo, te ne ho dato un bel destro. Bello, mi piace. Tipo della stofase, come giocabilità. Mori soffocato, bastardo. Eccala. Ciao. Buonanotte. Oddio, mi sparo. Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di apertimento. Lui. Assur. Abbiamo sentito lo stalo. Questo, di qua. Di qua. Bene. io lascia andare arrenditi ora mi butto nel tamigi dai non ci ho capito non farlo ho detto arrenditi mani sulla testa hai tradito il nostro ordine nessuno può sottrarsi alla pena dimenticate lord carcelliere che io sono già un uomo morto questo era il prologo di the order galahad rispondi galahad mi senti qui è il comando ti ricevo percival ti fai una bella passeggiata al barco eh niente come la brezza mattutina di londra ti schiarisce le idere mi vuole interrompere la tua meditazione ma abbiamo la conferma di bersagli multipli a grov non swear i nostri ordini ricongiungiti alla sede delle indie unite con i grey nella faillette e neutralizza la minaccia riesci a vederla l'obiettivo di ora è la parte superiore dello schermo tieni proprio due ore per concentrati sui dettagli individuali tutti gli istanti che cosa dovrei vedere vediamo in basso no no trovo la sede delle indie unite ok dov'è sta sede non mi fa spostare di qui finchè non la trovo è di fronte a me bene valuta la situazione una volta la e procedi con cautela e nicola ti ha fornito delle armi sì un sxm2 foltion bene la modalità secondaria del foltion può servire possono anche essere dei pazzi ma sono comunque dei civili consiglio l'uso di mezzi non letali ricevuto ci raggiungerai ho una questioncina di cui occuparmi ci sentiamo tutti mi muovo subito passo e chiudo ok ok io devo controllare tutto, sono maniacale da questo punto di vista vediamo, vediamo, vediamo i grain, devo incontrare un tale o una tale i grain se ne ho premuto r3 per consultare la tua torre, ok niente di niente, posso parlare con questo tizio? no, figurati ragazzi a me piace esplorare, considerando che questo gioco hanno detto che è corto per cui esplorare prima di entrare in azione per me è fondamentale ok, nada, devo scendere le scale grazie va bene buongiorno buongiorno a lei tra un po' qui inizia il macello per cui valigie attenzione, attenzione cos'è i cilindri di cera contengono incisioni audio, premi option e selezione archivio per ascoltare questa incisione all'epoca in cui Uther Pendragon era re dell'inghilterra tutta e come tale regnava gli era un potente duca della cornovaglia che da tempo gli muoveva guerra era il duca di Tiltagil dunque, re Uther lo fece convocare a curte con l'ordine che portasse secola consorte poiché ella, chiamata Igraine, godeva della nomea di donna abbenente e sadia quando il duca e la moglie giunsero davanti al re furono accolti entrambi come ospiti illustrissimi il re sviluppò per lei sentimenti vivi tributò loro grandi festeggiamenti e desiderò di giacere con lei mmm ella però era damma integerrima e il re non voleva concedersi così si rivolse al duca e disse temo che con questo invito il re voglia disonorarmi per questo marito mio consiglio di partire senza indugio e in una notte rientrare a castello e Igraine è la persona che io devo cercare di incontrare ma corre solo quando vuole lui perché adesso non corre per esempio va bene, va bene, vediamo come arrivare se c'è un'altra scala questo è l'ascensore che stanno sistemando ma io è l'unico mezzo che ho per... attenzione, si porta aperta di qua sono in strada, arrivo ricevuto eh, un attimo ciccio bello 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 grazie grazie negativo idem qui probabilmente è in giro dietro qualche sottana come... beh, come è suo solito capisco le perplessità ma credimi è un tipo affidabile te lo dice tu? comunque non ho tempo di cercarlo sto assegnando gli ultimi agenti alle loro postazioni vediamo qui va bene, ho capito, devo andare di qua salire la scalinata ok Grazie a tutti. 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 Esatto. Fuori dai piedi e restaci. Sia mai che qualcuno ti sparasse per sbaglio. Problemi? I soliti mercenari dal grilletto facile. La compagnia delle Indie Unite ha una predilezione per i fanatici. L'ultima cosa che vogliamo sono degli esaltati che seminano altro caos. Ho detto loro di restarne fuori. No, 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 no. Gala, dal riparo! Andiamo! Andiamo! Al lavoro, forza! Obiettivo a terra! Ricaricare! Via libera! Muoviti! Vieni qui, trovate delle armi! Voi due! Portate qui il culo, mi serve una mano! Forza! Vai! Andiamo, bastate i maledetti! Un fusile sarebbe più appropriato! Merda! Merda! Arrivano altri fuggiaschi dal vicolo! Alcuni sono diretti all'atrio! Figa, sono feritissimo! Non ho la visuale libera! Che cima alle scale! Mirri maledetti! Stai giù! Non sono messo bene! Non sono messo bene! ti faccio saltare la testa maledizione aiuto diavolo merda l'ho ucciso merda ho sbagliato tasto ho sbagliato tasto e va bene ragazzi succede è stordito sparagli ora bici stai bene oh merda le massacrano pronta pronta liberiamoci di questa freccia fumogeni d'accordo fumogeno no andiamo diavolo i spi rispondono non vuole saperne di morire non ho la visuale libera devo ricaricare ma faccio al culo nel bar Non si credo. 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 Non si credo.